L'Omellino Per i giorni monoteiste non volevano la carne di maiale per cui era diventato gioco a forza usare altri materiali da insaccare e hanno scelto l'oca perché qua l'oca viveva bene dato il clima, data l'acqua delle risaie. Un tempo si faceva solo il salame d'oca tra virgolette ecumenico quindi solo di oca, adesso il salame d'oca di mortara tipico è un salame cotto ed è fatto per metà di oca e per metà di carne di maiale, è un insaccato misto. Esiste comunque una produzione di nicchia, viene fatto ancora appunto il salame cumenico ed è un salame crudo, mentre invece il salame di mortara questo tipico è salame d'oca. Questo cos'è? Questo è il vostro marchio. Il vostro marchio, no? Per cui questa è una confraternita, no? Ordinello Mellino della rana e del salame d'oca. Della rana e del? Salame d'oca. Rana perché è uno dei prodotti della nostra terra, non ce ne sono più, noi abbiamo fatto come confraternita un voto, per due anni non abbiamo mangiato, voto fatto davanti al notaio con tanto di scrittura, per due anni non abbiamo mangiato rane, anzi abbiamo fatto un lancio, un lancio simbolico di qualche migliaia di girini proprio per ripopolare perché non esistono. Durato due anni è sciolto l'anno scorso, per cui da quest'anno possiamo riprendere a mangiare le rane se le troviamo.